Allora, bella gente! Siamo qui su Black Ops 2 Oggi osserveremo questa strana persona che ho incontrato in una partita Guardate, allora lui cosa fa? Si fa trovare sparando così Poi tira il fumogeno Ora ve lo devo far vedere perché è una cosa stratosferica Tira il fumogeno O la C4 alternate Fumogeno, quello ero io davanti E si fa esplodere Ma vado avanti così vi faccio vedere Guardate Morto 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 classifica l'ovvio e fa ridere ecco allora inviamo guardate tatata e lo riesce a uccidere c'è una cosa fantastica vabbè però per oggi è tutto dopo aver visto questo bel coglione su black ops al prossimo video serio e non queste stronzate alla prossima i'm a scappman i'm a scappman i'm a scappman